Le 5 migliori cose da sapere sul mercato Forex Il mercato Forex, noto anche come mercato delle valute estere, è il più grande mercato finanziario al mondo e offre numerose opportunità di trading. Tuttavia, per avere successo nel Forex, è essenziale comprendere alcune nozioni di base. In questo articolo, esploreremo le 5 cose più importanti da sapere sul mercato Forex. 1. Funzionamento del mercato Forex Il mercato Forex è un mercato decentralizzato in cui vengono scambiate valute estere. Gli investitori possono acquistare una valuta e contemporaneamente vendere un'altra. Le coppie di valute sono al centro del Forex trading, ad esempio euro-dollaro, euro-dollaro statunitense, e o sterlina-inliese-yen, sterlina britannica-yen giapponese. Il prezzo di una coppia di valute riflette il tasso di cambio tra le due valute. 2. Leva finanziaria La leva finanziaria è un elemento chiave nel Forex trading. Consente ai trader di controllare una quantità di denaro molto maggiore rispetto a quanto ne abbiano effettivamente investito. Ad esempio, con una leva finanziaria di 100,1, è possibile controllare 10 dollari con solo 100 dollari di capitale. La leva finanziaria offre l'opportunità di amplificare i profitti, ma comporta anche un rischio elevato, quindi deve essere usata con cautela. 3. Analisi tecnica e fondamentale Per prendere decisioni informate nel Forex, è importante utilizzare sia l'analisi tecnica che l'analisi fondamentale. L'analisi tecnica si basa sull'analisi dei grafici e dei modelli storici dei prezzi per prevedere futuri movimenti. L'analisi fondamentale, invece, si concentra su indicatori economici, notizie e eventi che possono influenzare i mercati. 4. Gestione del rischio La gestione del rischio è fondamentale nel Forex trading. Imposta ordini stop loss per limitare le perdite e usa il dimensionamento delle posizioni per proteggere il tuo capitale. Non investire mai più di quanto puoi permetterti di perdere. 5. Psicologia del trading La psicologia del trading è spesso sottovalutata ma è fondamentale. Il trading può essere emotivamente impegnativo, e i trader devono essere disciplinati e razionali. Non lasciarti trascinare dall'avidità o dalla paura, e mantieni un piano di trading ben definito. Conclusione Il mercato Forex offre opportunità di trading interessanti, ma è importante comprenderne le dinamiche e adottare un approccio informato. Conoscere il funzionamento del mercato, utilizzare la leva finanziaria con cautela, analizzare i dati, gestire il rischio e mantenere una mentalità disciplinata sono le chiavi per il successo nel Forex trading. L'educazione continua e la pratica sono essenziali per diventare un trader di successo nel mercato Forex. Condividi, iscriviti e unisciti alla nostra nuova avventura su YouTube.